A Teramo la revisione sul piano economico-finanziario PEF dello stadio Gaetano Bonolis, che per giorni ha agitato le acque sia politiche che quelle della tifosieria, è stata rinviata al prossimo Consiglio Comunale, dopo aver interpellato l'ANAC sul progetto presentato dalla Soleia dell'ingegner Franco Iachini, gestore dell'impianto e presidente del Teramo Calcio, ed aver affrontato una nuova commissione sport o conferenza dei capigruppo. Una decisione che per l'opposizione indica la mancanza di numeri di chi governa, mentre per l'amministrazione comunale rappresenta una vittoria per la democrazia. È stata una scelta concordata, una richiesta da parte dell'opposizione di avere più tempo. Come maggioranza, come amministrazione, come sindaco, con l'assessore abbiamo deciso assolutamente di concedere questo tempo aggiuntivo, anche per fare eventuali approfondimenti ulteriori sulla base delle richieste dei consiglieri, perché è giusto così, fisiologico, che atti così importanti, si votino con il tentativo di avere la più ampia e larga condivisione da parte del Consiglio. È un atto importante che peraltro ieri ha avuto anche una valutazione nella sostanza decisamente positiva da parte di quasi tutto il Consiglio, a parte quell'opposizione distruttiva a prescindere. Quindi ci sarà serenamente questa valutazione. Il Consiglio, in tempi brevi, fatti ulteriori approfondimenti, quelli richiesti, procederà a chiudere la discussione. Secondo lei è il miglior progetto possibile? In questo momento è un progetto che tiene dal punto di vista economico-finanziario. Ieri è stato detto chiaramente che è un progetto che tutela l'interesse pubblico in modo ampio, puntuale. Abbiamo chiesto delle modifiche che garantissero un prezzo e un costo sostenibile blindato per il lungo termine in favore della Teramo Calcio, perché è un tema importante, la tutela della nostra società, della società di riferimento della nostra città. C'è l'obiettivo di riqualificare complessivamente un impianto che, come ieri Deloita ha dichiarato, è in stato di semiabbandono, questo è il dato oggettivo, oltre a pianificare una gestione che poi si misura non tanto sul piano della durata o altro. Tutti gli impianti sportivi sono concessi a lunghissimo termine oggi dai comuni, non è questo il punto. Il punto è verificare il rispetto della concessione, che puntualmente ci sia l'attuazione di investimenti importanti nel rispetto dell'investitore privato, perché non dobbiamo dimenticare che si tratta di un investimento importante e che va valorizzato soprattutto con il controllo sull'attuazione della convenzione, sul rapporto tra pubblico e privato che deve essere diverso rispetto a quello messo in campo in passato.